Il traffico transita sulla sola corsia di sorpasso. In A11 veicolo in avaria tra Monte Catini e Pistoia in direzione Firenze. Sulla statale Trebis Tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Modonuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per Frana tra Popiglio e La Lima. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!